Qui presentiamo le due nuove macchine Bridge Sony, un mercato che per noi è molto importante perché comunque corrisponde all'esigenza del consumatore all'interno dell'ambito per parte. Abbiamo l'H400 e l'HX400, sono due macchine esteticamente molto simili ma con caratteristiche differenti. L'H400 è al momento la Bridge che ha lo zonotti più alto all'interno del mercato, fino a 63 perditi. Quindi sicuramente la possibilità all'interno di una macchina che comunque ha un punto prezzo molto accattivante di 2,99 di riuscire a ottenere comunque uno zoom molto molto elevato. Dall'altra parte ovviamente ha la possibilità di avere il flash integrato, tutte le funzionalità possibili all'interno di una macchina, quindi l'LCD sicuramente molto chiaro e semplice da utilizzare e quello che è il mirino. Quindi una macchina assolutamente completa con un sensore CD da 20 megapixel e che fa in questo caso video HT 720p. Dall'altra parte invece l'HX400 è il nostro modello top di gamma, sempre comunque in conformazione Bridge, in questo caso ovviamente quelle che sono le caratteristiche migliorano perché abbiamo uno zoom che arriva fino a 50 ferma con un'ottica Zeiss, quindi un'ottica di estrema qualità. Anche questo ovviamente è un zoom ottico perciò possibilità di zoomare in maniera molto semplice e costante e stabile i suoi oggetti. Dall'altra parte ha un processore che è il nostro processore nuovo che si chiama Bion6, è un processore migliorato che permette di elaborare ancora meglio tutte le informazioni e avere immagini più chiare in video. Un LCD in questo caso orientabile per un semplice utilizzo in tutte le condizioni e dall'altra parte in questo caso abbiamo un sensore 20 megapixel, un sensore CMOS, quindi possibilità di fare video full HD, possibilità di avere all'interno anche le applicazioni che abbiamo già lanciato in Nex, quindi scaricare le applicazioni come faccio con uno smartphone all'interno della macchina e sicuramente anche un'altra cosa importante, wifi, NFC e GPS integrale, quindi una macchina assolutamente completa, a un punto di prezzo differente rispetto all'acqua 400, in questo caso a 480 euro. Due prodotti che saranno disponibili dal mercato a partire da aprile.